Ok, let's go! L'ho usata talmente tanto che è salita di due livelli E vedete che sono al 91% di un prossimo livello Quindi probabilmente faremo il terzo livello qui a on camera E appunto mi ha guadagnato un po' di reinforce Quindi ha più durabilità E l'auto repair, sono stato molto fortunato Mi ha sbloccato l'auto repair e quindi si ripara da sola Obiettivi di questo episodio Potete vedere che qui ho creato questa piccola piattaforma Che è 25 blocchi lontana dalla nostra isola Quindi lì i mob possono spawnare E mi stavo anche chiedendo perché i mob non spawnano su questa isola Perché vedete che con la f7 potrebbero spawnare E mi è venuto in mente dopo Ehi ma io devo essere 25 blocchi lontano per spawnare Quindi se vogliamo fare un mob suono ne ho preparato Ma non credo che sarà l'obiettivo di oggi Perché l'obiettivo di oggi sarà fare un generatore automatico di cobblestone Ci servirà quindi tanta cobblestone e quindi tanta dirt Che ho fatto off camera Infatti qui dovremmo avere un'altra 3 Sto... ho usato la... l'autility mod E ho usato il magnete perché altrimenti essendo qui vicino ai barili Cadeva tutto di sotto Quindi sì, lasciatemi il magnete per questi quei tempi Poi lo crafterò un magnete regolare Quindi non worry be happy Allora ho scoperto anche di avere una fantastica mod installata Che si chiama vein miner Tra il resto la scafactor 2 ha molte mod alternative da installare Per esempio potremmo usare una dual hotbar Oppure un inventario infinito Però non mi piace giocare con tutte queste aggiunte Ho usato solo la... Tra il resto ho messo anche in peaceful per vedere se c'è un bug della fame Perché non mi scendeva la fame Poi l'ho messo in peaceful e ho tornato in hard e mi scendeva Quindi ok Qui ho fatto un po' di crook perché vedete che appunto ho la vein miner Che mi permette di togliere tutti i blocchi in una volta sola Pronti? Boom! Bitch! E quindi io posso semplicemente prendere un po' di crook E scruccare tutte le foglie in questo modo Che è una cosa tipo... Quinto più facile di quello che facevo prima E la stessa cosa funziona con legno Quindi boom 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 E... Boom! Eeeh! Livello! Cosa abbiamo preso? Luck! Luck! Non serve a nulla su una shellac Vabbè Vabbè Saremo più fortunati un altro... Un altro po' Cosa ho detto non lo so Ad ogni modo Ok Adesso abbiamo... Credo che abbiamo abbastanza legno Abbastanza tutto Sto tenendo comunque in ogni... Volta un sapling di riserva in quella cesta Adesso non so perché non c'era Devo averlo usato Comunque tengo sempre un sapling di riserva in quella cesta Perché non si sa mai che... Che per sbaglio ne pianti uno in più Eccetera Andiamo a guardare velocemente gli archivment Prima di cominciare l'episodio Siano fatti alcuni off camera Per esempio allora Questo avevamo fatto Lo dust l'avevamo fatta Prima della fine dello scorso episodio Sift Gravel Sand and Dust No? Dobbiamo farli Fighting Earth Construct Tools Dei buon fatto E il resto non dovrei avermi fatto Quella Cobblestone Generator E ok Pensavo il Cobblestone Generator Di creare al momento una versione manuale Cercherò su Google come farla Perché con la vanilla sono un abazzo Non so come fare un Cobblestone Generator E poi In caso Quando ho tanta Cobblestone Parlo automatico Però poi intanto farlo manuale Parlo per esempio qui così Un po' lontano dall'isola Perché se no mi brucia l'isola Quindi 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 cominciamo La prima cosa che probabilmente vogliamo fare È ottenere della lava E per questo ci serve della clay E per questo ci serve che piova Perché ci serve dell'acqua Quindi intanto io prenderò un po' di dirt E la sifterò L'obiettivo del resto è Massimo quarto episodio Automatizzare la creazione di minerali totalmente Però per fare questo ci servirà l'acqua Ci servirà l'acqua È una cosa molto importante Quindi intanto facciamo così Vediamo Cosa riusciamo a ottenere Ovviamente ne ho altre terra Ma un po' voglio ottenere Quella per fare una piccola farm Così Quindi intanto sifterò questa Mettiamo i vermitti via Abbiamo ottenuto dei potato seed E dei grass seed Questi sono utilissimi Molto bene E abbiamo 30 stone Che possiamo Ops non qui Qua sto facendo i crook appunto Ce li ho già pronti In caso li finissi Possiamo fare 7 mezzi di cobblestone Nice 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 Very nice Possiamo metterli qui per intanto Perché per il momento non ci servono Quello che voglio fare Infatti è Aspettare FK Che piova Anche se non credo Che ci sia un modo Per far piovere Il Rainmaker Non è ancora la mia portata Non c'è proprio Perfetto Rain Rain's Dance Gem Eh Sì Essence of Water Ecco Devo fare la Magical Crops Sì 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 Ok Ah qui c'ho la minchia Giusto Giusto Allora 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 Io Direi Che aspettiamo Che piova Non lo so Perché sinceramente ragazzi Quasi Quasi Userei un mini trucchino E farei piovere Perché insomma È solo una cosa da aspettare Quindi Passatemelo Facciamo Velocizziamoci un po' il lavoro E facciamo piovere Così qui dentro Si creerà Tutta La cosa E togliamo queste slab No ma Sono solo due secchi Quindi ok Secchi Cazzo Secchi Ah no Nulla 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 Togliamo queste Togliamo queste Velocemente Ho bisogno di più acqua possibile Acqua Vassero Vassero E mi serve un sapling E Prendiamolo qua Facciamo No Oh che culo Facciamo così Così qua Ok Questi si riempiranno tutti E facciamo Della dust Facciamo Della dust Boom Vein miner E Facciamo Della Sand E facciamo Della dust Ok Che metteremo Nei barili Pieni d'acqua Quando saranno pieni Cioè adesso E faremo La clay Boom 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 Beach Molto bene La clay Ci serviranno I pezzettini Molto bene E poi Possiamo fare Così Beh avete Voi Avete 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 Voi 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 La clay Con i pezzettini Possiamo fare Così Otteniamo Un Unfired clay Bucket Che però Dobbiamo cuocere In una fornace E non abbiamo Abbastanza cobblestone Dobbiamo Più cobblestone Più cobblestone E Ok 35 altri Grass seed Cos'è Grass seed Poteto seed La maledizione Del grass Poteto Ok Molto bene Craftiamo Questa Dopodiché Facciamo Due slab Due sedi slab Possiamo fare Una slab Furnace Sframiando Ben due pezzi Di cobblestone Le fornaci Per intanto Mente Momento Le mettiamo Dove Qui Why not Molto bene La fornace Adesso possiamo Cuocere Il nostro secchiello Con un paio Di stick Che dovremmo avere Proprio Giusto un paio Cuoci Ok Nel mentre Preparerei Qui nell'angolo Mi serve L'acqua Però Qua ci secchiello Grazie Abbiamo Un liquido Pumbich Prenderei Delle slab Ce ne abbiamo Nice Ce ne abbiamo 34 Farei Con questo Una specie Di piattaforma Qui sotto Per l'acqua Che si fa E Così Devo andare Ancora sotto Di uno E poi Fare Salire Fare così Perfetto Possiamo riprenderci Il secchio E poi fare Due Tre Quattro Questa possiamo Toglierla Farla Ridiventare Una slab Unica Fare così Dopodiché Qui ci servono Delle cose Così Ok Ok E quindi Facendo così E così Boom Abbiamo una fonte D'acqua infinita Nice Quindi possiamo anche Togliere Ah tra un episodio E l'altro Ho fatto anche Un letto Quindi si Ho fatto un letto Fantastico Possiamo togliere La pioggia Perché solitamente Va via Dammi più sapling Che mi servono Grazie E si Insomma Abbiamo una fonte D'acqua infinita Abbiamo anche Un secchio Questo è fantastico Prossime cose Che voglio fare Voglio dell'altra clay Dell'altra clay E credo che Non posso Comprerla con l'am Non cambia nulla E con questa clay Posso fare Un crucible Pitch please Si fa così Il crucible Unfire crucible Ah giusto Serve la porcelain clay Serve per me Che fortunatamente Abbiamo Perché ce lo siamo Lievato Quindi Why don't use it Porcelain clay Boom Unfired crucible Questo bisogna cuocerlo Quindi cuoce E facciamogli un posticino Qui vicino Posticino Vicino Ah l'hai capita Ok facciamo la schifo Pessima Molto pessima E possiamo scendere Qui sotto Thanks to this water Possiamo piazzare Un blocco lì Rissalire Hop Fare così E fare Ecco Eh No Wait Così No Uffa Volevo Lo volevo qui il crucible Però vabbè Lo mettiamo da qualche altra parte Lo mettiamo Qui per esempio Perché no Sembra un buon posto E Andiamo qui Ok Beaches Possiamo anche fare così Proprio Giusto per non cadere Anche se cadiamo lì sotto Tanto Non potremmo cadere lì sotto Prendere la nostra torciola Metterla qui sotto Così che faccia calore Poi prendere il nostro crucible Non ci arrivo Da qui Uffa Prendere il nostro crucible Prendere il nostro crucible Piazzarlo qui E adesso Abbiamo Calore E con questo calore Potremmo prendere la nostra cobblestone Metterla qui dentro E fare La Lava Quindi nel frattempo Che noi abbiamo la lava Io prenderei un altro po' di questa E la setacerei Per fare altri blocchi di cobblestone Con i quali andrò a costruire Il generatore Di cobblestone Quindi 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 Perché non vado a fare Delle prove in single player Per vedere come si fa Un generatore di cobblestone Manuale Perché Vi giuro che non lo so Perché io e la vanilla Siamo due cose separate Abbiamo divorziato Molto tempo fa È stato triste Sì Oh abbiamo degli acacia seed Abbiamo dei rubber sapling Sì 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 Possiamo fare così Possiamo usare Se non sbaglio ne abbiamo Ah no Ne abbiamo due extra Quindi nulla Non si fa nulla Possiamo mettere questi a posto Questi a posto Abbiamo dieci pezzi di cobblestone Credo che basteranno E mi servono delle sludge Le ho Faccio un piccolo Un walkway qui Che porta il nostro generatore Di cobblestone Che esisterà Nel prossimo futuro Facciamo così Facciamo così Così Uno Due Tre E uno Due Tre E poi Sì Creerò la piattaforma A seconda di quanto Mi merdo Ho finito il stub A seconda di quanto Mi serve Quindi Sì Cercherò di capire Come fare un generatore automatico Di cobblestone In vanilla Quindi Beelbees Ok Ok Credo di aver capito Credo di aver capito Mi serve la cobblestone Ce l'ho già Mi serve la cobblestone Ce l'ho già E Sì Mi servono due Wood slab La proprio due Giusto per finire La ringhiera Non so se È abbastanza Lo spazio che ho fatto Spero di sì Sembrerebbe di sì 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 È più che abbastanza Ok Tra il resto Non so se avete notato Ma una cosa di principio Non voglio mai lasciare angoli Qui intorno Vedete che da per tutte Io non ho gli angoli Non mi piacciono Non affanculo agli angoli Lì li ho messi Ma così Mi è andata Anzi Togliamoli subito Affanculo agli angoli Ok Molto meglio E Sì Allora Se non sbaglio Bisogna creare Allora Se la mia lava Allora Se la mia cobblestone Alla fine la voglio qui Quindi la lava Deve essere Allora Aspettate un attimo Che sto guardando una foto Lo so È ridicolo E La mia lava Deve essere Ok ragazzi Siamo tornati Credo che sia giusto Spero che sia giusto Perché L'acqua Non mi preoccupa Ma Ehi La lava È una sola Abbiamo un secchio No Sono più cobblestone Più cobblestone E vediamo se riusciamo A rivolci con questo pezzo Di mini city Prego Sì Credo che sia Proprio L'esatto Montare Da ogni modo L'idea è che la lava Andrà qui E si creerà la cobblestone Naturalmente Questa cosa che è Oscena Perché qui manca una slab Questa cosa che appunto Come dicevo È Oscena Perché è Oscena Sarà L'idea è che sarà Rimpiantata Il prima possibile Da Da un generatore automatico Sperando Sperantosamente E entro la fine Di questo episodio Sarà rimpiantata Da un generatore automatico Spero che sia così Tra il resto Questo secchio di Di clay Siccome è di clay E non supporta bene il calore Quando noi lo riempiremo Con la lava E la piazzeremo Si distruggerà Quindi E avremo bisogno Di un altro secchio di clay Tra il resto Volevo provare A vedere Se Possiamo fare Con il bone meal Una padella Wait Ho invertito Non possiamo fare Una padella Ok Me ne farò una ragione E Scusa Secondo me Si può fare Una padella Però È impossibile Che non puoi fare Una padella Col bone meal Dai Siamo seri Ti servono le ossa Normali Su serio Ah Vabbè 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 Allora Mettiamo Ok Molto bene Vediamo a che punto È la nostra lava Sia Stiamo arrivandoci Stiamo arrivandoci Mi prendi per il culo? Mi prendi per il culo? È notte? Ok Ok gente È il momento della verità Perché abbiamo Il nostro secchio di lava Vi ricordo che Verrà distrutta Quindi abbiamo Un solo tentativo Di Piazzarla Io la voglio qui Boom Funzionerà? Ops Eh non avevo pensato A questa eventualità Effettivamente Probabilmente voglio Oh vivo Voglio giusto Un paio di blocchi Proprio venirlo Uno qui E uno qui Ok Oh funziona Sì vabbè Metà i blocchi Verranno bruciati dalla lava È per questo che non mi piacciono Questo tipo di Di generatori Però Ehi Vabbè Sì Io starò qui a formare Cobblestone per un po' Diciamo fino a quando Questo piccolo non si rompe Fino a quando il martello Che ho di legno Non si rompe Quindi yeah We'll be right back Et voilà Cosa ne pensate Abbastanza cobblestone Spiego proprio di sì Perché adesso Sarà per diventare Tutta gravel Solo stato Praticamente Sono andato a cena E ho lasciato Il mouse Col Il testo premuto FK E Bumbi Insomma Allora adesso facciamo Un po' di gravel E la setacciamo Tutta quanta Per prendere Un po' di materiali Dopodiché farò anche Della dust E la setaccerò Tutta quanta Per prendere un altro Po' di materiali E dopodiché Vedrò se sarò Già in grado Di fare Un transfer Node Sarà la cosa Tipo più noiosa Che ho mai fatto Su questa serie Quindi Sì insomma Senza questa mod Non è una buona idea E voi tre Faccio Giusto un paio di martelli Di cobblestone Tanto ormai Ce l'abbiamo Per fortuna È durata poco Il periodo del Per fare la cobblestone Serve La terra Ok Ok Oddio 55 pezzi Sul serio Ho acceso Ragazzi ho riscontrato Un bug Vedete Ogni tanto mi da gli oggetti Quando se faccio la gravel Ma ogni tanto no Adesso Guardate Non so se succede Vedete Adesso mi li sta dando Sempre proprio Perché lui è bastardo Vabbè Meglio così Adesso Vi terrò giornate Se succede ancora Ma se succede ancora Che devo riportarlo Perché vedete Tipo adesso Non mi ha dato Nessun oggetto Non lo so Ok ragazzi Ho fatto un po' Il calcolo Di quello che ci serve Per concludere l'episodio Col traguardo Che volevo concludere Tra il resto Mi è appena Monto in mente Una cosa Che dobbiamo fare Assolutamente Craft and Cuba crucible Make clay Putting a battle La 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 Collect cosa Collect sand and dust Gravel Fai cobblestone generator Fai crucible con la lava Boom Abbiamo fatto un bel Poi di achievement Ragazzi Abbiamo finito La vd Secondo lui Però vabbè Ok Io Sì Sì Allora Praticamente mi servono Sette ferri Sette lingotti di ferro Che fatti per quattro Sono ventotto Quindi ventotto Broken iron ore Ne ho sei Perfetto Siamo vicinissimi Quattro lapislazuli Ne ho tre Questi siamo veramente vicinissimi E unici redstone Che si prendono Sedacciando la dust Quindi per intanto Cercherò di ottenere Più ferro possibile Poi cambierò Il mio stile E farò la dust Sarò più o meno Credo che mi chiederà Mezzoritta al massimo Quindi Ci vediamo Tra mezzoritta Ciao Oh Un'opera d'arte Di un artista contemporaneo Fa un culo Smeraldo Ho preso uno smeraldo Ragazzi Non ci credo Perché si Se tracciando la gravel Possiamo ottenere Oggetti rari Come smeraldi O diamanti Fucchiea Quindi si Tra il resto Dovrei avere Due lingotti di ferro Yeah Siamo a buon punto Me ne servono sette Oh cazzo Diamante Abbiamo il nostro Primo diamante Diamante No smedio lo gesto Diamante Beaches Non ci credo Non ci è voluto Nemmeno troppo Infatti non ho finito E abbiamo anche I nostri 4 lapis latte Stiamo prendendo Un sacco di flint ragazzi Un sacco di flint Un sacchissimo di flint Che possiamo usare Per fare dei Tinker's construct tools Come la nostra ascia Simpatica Quindi si E' una buona cosa Prendere la flint Oddio 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 Per fortuna ho messo La cobblestone qui in mezzo Non bruciare Non bruciare Non No 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 Devo mettere più cobblestone Più cobblestone Più cobblestone Dov'è che bucino Non provarci neanche Non provarci neanche Ma Tu non so Non sembri che stai bucciando Ma Vabbè Ok Per fortuna ho sentito il rumore Perché se no Non voglio neanche immaginarlo Rapido aggiornamento Ho finito con la gravel Potete vedere infatti Che ho 5 lingotti So che posso prendere del ferro Anche facendo la dust Quindi ho anche finito la cobblestone Tra parentesi Quindi dovrò Cominciare a farmarne altra Posso farmarla direttamente Con questo Adesso che ci penso Così mi da direttamente la gravel Quindi sì Sembra anche essere più veloce A rimpiazzarsi Buon per me Poi mi servirà la dust E sì Insomma Sapendo che posso prendere del ferro Anche dalla dust Insomma Siccome mi mancano solo due pezzi Farò la dust Così cercherò di prendere Gli 11 pezzi di redstone Che mi servono E spero che sia abbastanza Comune Vi dico subito Ok ragazzi Siamo tornati Mi manca solo un pezzo di redstone Spero di trovarlo In questi 11 pezzi di dust Volevo farvi anche voi Presenti Per l'ultimo pezzo di redstone Perché veramente Ci è voluta un'eternità Trovare questa redstone È tipo la Oh 11 Vabbè a questo punto la finisco E Voilà Ecco il mio totale bottino Della dust Allora mettiamo tutto al suo posto Ovviamente siftando la dust Otterremo delle polverine Così Possiamo vedere Qui dovrei avere altri due lingotti Nice Quindi ho i miei sette lingotti Poi ho quattro lapislazzoli E ho 11 redstone Nice Quindi questo è quello che mi rimarrà Dopo il mio crafting Abbiamo solo un powdered gold ore Stranamente Abbiamo poco oro Però vabbè Non dobbiamo preoccuparci Perché in poco tempo Verrà automatizzato Possiamo fare un blocco Dopo ci serviranno due pezzi di cobblestone Che metto a cuocere Ci servirà una chest Quindi craftiamola E Ok Tu puoi andare qua Tu puoi andare qua Tu puoi andare qua E Boh Sì Dovremmo essere più o meno posti Tu puoi andare qua Qui ho Ah Ho un sacco di materiale Anche qui Che ho messo nella cia sbagliata Quindi questo è il mio totale bottino Ho un po' sbagliato E sì Le due stone sono cotte Sta per diventare notte Fa anche rima E possiamo creare Il nostro pipe Ok Il pipe Ci servirà del vetro Non l'avevo contato il pipe Quindi ci serviranno due pezzi di vetro E una redstone Che abbiamo 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 Fuuu Oddio Mi è venuto un colpo Pensando di dover setacciare ancora Sì Dovrò setacciare ancora Prima o poi Anzi Molto Più prima Che poi Perché sì Se nel prossimo episodio Voglio avere Lo siftatore automatico E lo smartellatore automatico Mi servirà Un sacco di materiali Ma non voglio neanche pensarci Al prossimo episodio Perché ragazzi Ci siamo messo due ore A fare questo off camera Quindi Vediamo di essere Più precisamente precisi Fare delle Oh mi serve al trastone Qua c'è il trastone Qua c'è il trastone Qua c'è il trastone Intanto Io direi fare una chest Un'altra Nice Dopodiché fare così E una slab E una chest Per ottenere un better bottle Better bottle Better bottle Qui abbiamo la stone Dai 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 Beh intanto possiamo creare I nostri Transfer Pipe Quindi stone slab E vetro Qui e qui Una redstone Che dobbiamo avere Qui Qui E dopo Come solo 8 Non erano 32 una volta Vabbè E poi Possiamo fare così 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 Wait Come casi Craftano Allora no Mi serve Della redstone Molto bene Qui Mi serve L'iron sotto No la smoothstone sotto L'irona cosa Ah si Giusto Dopodiché mi servono Degli stick Boom Del ferro Boom E 1 2 3 4 1 2 3 4 World interaction upgrade È necessario Per il generatore Di cobblestone Qui possiamo pulire Tutto Ma tutto Tutto Mi serve solo un piccone Che non ho Che ho finito Giustamente ho finito Quando Stavo 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 Stando Ecco insomma E Puff Per il resto Già che ci siamo Vorrei anche Oh messaggino Vorrei anche fare così Così posso Craftarmi Un vero secchio Insomma Perché quello che adesso Non è C'è Quello che adesso Non c'è Ok E tu la Come nuovo Dopodiché Possiamo Non sei simmetrico Bastardo Come fai a non essere Simmetrico Spiega Boh vabbè Voglio la mia Cobblestone Qui Pum E un altro Usaggino Dopodiché Voglio così E così Questi Voglio Tutto Stone slab Che Appunto Verranno rimpiazzate Con qualcosa di più figo Che non bruci Ma per intanto Vado benissimo Le cobblestone slab E Sì Eventualmente Verranno Rimpiazzati Anche questi E mano a mano Però vabbè Qui possiamo mettere Il nostro coso Qui sotto Possiamo scendere Qui sotto E dove Minchia la metto La lava io Vabbè la posso Già appoggiare Al suo posto Posso prendere Dell'acqua Scendere di sotto Abbiamo delle slab Sì No Perché mi servono Di stone Quindi andiamo Alla crafting Boom Boom Non so Non so perché Non fate 12 Ma vabbè Me ne saliva Una Uuuu Questo Mi avevo già messo Questa E allora Possiamo Tappare Il buchino Oddio 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 Una paura Folle Ok Fangulo Possiamo Tappare Anche Questo Cazzo C'erro Quasi E Questo Dopodiché Possiamo Prendere La nostra Acqua Metterla Qui Wow 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 Don't Fare Quelle brutte cose Sapete Cosa Quasi Quasi Proprio Non si sa Mai Non dovrebbe Succedere Ma giusto Per scrupolo Io qui Metto Una Linea Di Cobblestone Così Se per caso Si incendiasse L'incendio Non dovrebbe Riuscire A oltrepassare Le stone slab Giusto 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 Sembra un ragionamento logico Sembra un ragionamento logico Dopodiché Possiamo mettere Il nostro World in the action Upgrade E questo Comincerà a creare Cobblestone Oh Cazzo Possiamo mettere Il nostro barile E' fatta Abbiamo Un generatore Automatico Super compatto Di Cobblestone Ecco Wait a moment Perché poi Io sono un coglione E ci cado dentro Ok Abbiamo un generatore Di Cobblestone Questo barile Conterrà fino a 64 stack Ma per me Non sono abbastanza E quindi Andrò ad aumentarlo Subito 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 Prima di chiudere L'episodio Siamo a 28 minuti Spero che vi faccia piacere Un episodio un po' più lungo A chi è che non fa piacere Alla fine Un episodio un po' più lungo Allora Ho bisogno di Delle fence Delle assi Dovrei poter Creare questo No Evidentemente qualcosa Non stacca Boom Dopodiché Mi servirà Questo Non questo Ma mi servirà Questo Che si crea Con due pistoni Un better barrel Oh cazzo Due pistoni Non ne ho Abbastanza materiali Quindi per intanto Farò così Però Non aumenterò La max stack size Perché non ho abbastanza Materiali per farlo Quindi Per questo episodio È tutto Io spero che questo episodio Vi sia piaciuto Abbiamo fatto Progressi fantastici Quest'oggi Ovvero Un generatore Di cobblestone Automatico Se pensate che oggi Quando abbiamo cominciato La cobblestone Ce la dovevamo fare A mano Dalla terra È un progresso Molto buono Direi Direi Ottimo direi Quindi se questo episodio Vi è piaciuto Io vi ricordo Di lasciare Un mi piace Di Di Niente Di supportarmi Di commentarmi Di dirmi cosa vi piace Della serie Cosa non mi piace Della serie Cosa vorreste che Facessi in questa serie Cosa vi aspettate Vaffanculo Cosa vi aspettate Da questa serie A parte un'isola Che brucia E sì insomma Per questo episodio Tu non stai bruciando Cioè tu stai bruciando Ma non stai bruciando Per questo episodio È tutto Io vi ringrazio Per la visione Vi rimando Il prossimo video Che caricherò E ciao ragazzi Per la visione